Siete nati per essere governati. Alla fine... ognuno sarà solo con se stesso. Che dobbiamo fare? Stare pronti. La nostra idea era di mettere insieme un gruppo di persone eccezionali. E quando ne avremmo avuto bisogno, loro avrebbero combattuto quelle battaglie per noi insostenibili. Signori... Preparatevi a dare il massimo. Senza offesa, ma io non amo il gioco di squadra. Sei grosso con l'armatura. Senza quella che cosa sei? Un genio, miliardario, playboy, filantropo. Se non possiamo proteggere la Terra, vi garantisco che la vendicheremo. Dottor Banner, il suo lavoro è incomparabile. E mi appassiona vederla perdere il controllo e trasformarsi in un mostro verde e rabbioso. Dottor Banner. Grazie.